Se mi chiedessero come racconteresti la tua città, risponderei che Ascoli non è fatta solo di storia e arte, ma anche natura. Già, perché in pochi lo sanno, ma nella mia città c'è un fiume dove puoi respirare i suoi profumi e vivere emozioni. Il fiume è il rifugio dei miei pensieri, poiché qui tutto diventa più semplice, riesce a farmi sentire viva grazie alla sua intimità, come quel pomeriggio di piena estate, quando ho scelto di essere felice. Lui stava aspettando una risposta, erano giorni che dovevo prendere una decisione, ma io continuavo a pensare e i dubbi mi assalivano. Sofferente per il caldo, decisi di scendere giù al fiume. Volevo cercare il refrigerio, ma anche delle risposte. Seduta su un pietrisco, ascoltavo lo scorrere calmo dell'acqua e lo scroscio intenso delle cascate che amplificavano le mie emozioni. Raccolta nei miei pensieri, giro lo sguardo, è riseduto qualche massa qui e là che mi aspettavi. Da quel giorno questo luogo è stata la mia risposta. Natura, amore, un connubio perfetto.